Alvia il 15 novembre, Piemonta in bici, il bando della regione Piemonte per le infrastrutture ciclistiche strategiche che stanzia 40 milioni di euro cofinanziati dal Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, FESER, 2021-2027, nell'ambito della transizione verso un'economia a zero emissioni net di carbonio e della strategia di sviluppo sostenibile. Il bando si suddivide in due azioni. Scarica gratuitamente l'app News24 e leggi gratis i nostri giornali e se vuoi vedere tutto il video abbonati alla nuova televisione online e live 24 ore su 24.